Ciao a tutti amici dell'inchiasto fresco. Oggi è il 9 giugno domenica e ci troviamo precisamente qui davanti al Museo dei Campionissimi in attesa della Gran Fondo della Milano Sanremo degli amatori. Nulla da invidiare degli amatori. Nulla da invidiare alla Milano Sanremo dei professionisti. Ora andremo a vedere quanti corridori ci saranno. Sono le 9 e un quarto del mattino. I partecipanti dovrebbero essere sui 1300 e le notizie le danno a Voghera. Quindi ci vorrà ancora 20-30 minuti. Sono le 9 e 40 e il gruppo si trova a Puzzolo Formigaro. Ed ecco che il primo gruppo sta passando. Puzzolo Formigaro Il primo gruppo è passato che erano le 9 e 59. Ora vediamo il secondo gruppo a che distanza passa. E adesso il secondo gruppo che sta arrivando. Sono le 10 e 04. Eccone un altro. Vai vai! E' il terzo gruppo che sta per arrivare. Sono le 10 e 10. Eccoli qua. Laiale! Forza! 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 Ora attendiamo ancora 5-10 minuti per vedere gli ultimi. per rendere onore anche a loro di questa loro forza di fare la corsa di 298 chilometri, cosa non da poco. Grazie. La corsa è finita. La corsa è stata un gran successo in quanto gli iscritti erano tanti. Come avete visto erano parecchio agguerriti. Alla prossima, amici dell'Inchiosto Fresco. Ciao a tutti dal Museo dei Campionissimi qua di Novi Ligure. Grazie. Grazie.